E' Matteo Baluganti, il vincitore del premio Sportman TV 2010, incerta fino all'ultimo la giuria del riconoscimento che la TV Elbana dedica per il decimo anno consecutivo allo sport dell'isola e ai suoi protagonisti e ha scelto di premiare un atleta emergente rispetto all'altrettanto giovanissima ma più affermata Alessia Bulleri, azzurra e tricolore di mountain bike e comunque già vincitrice del premio nelle passate edizioni. Insieme ai due giovanissimi portabandiera dello sport Elbano, un 67enne per niente a disagio, Bobo Bonistalli, campione italiano di maratona per la sua categoria, vero e proprio esempio per tutti di dedizione allo sport. Fra le squadre ancora Remy in testa al premio Sportman e non poteva essere altrimenti con l'equipaggio portofraiese della Padulella che nel 2010 ha bissato il tricolore di canottaggio a sedile fisso. Fra gli eventi organizzati sul territorio la scelta della giuria è andata a favore della Capoliveri Legend Cup di mountain bike organizzata a Capoliveri, già un successo alla sua prima edizione. La manifestazione da questa edizione, oltre a godere del patrocinio del coni dell'Associazione Nazionale Veterani dello Sport, è dedicata, da quest'anno, alla memoria di Massimo Falleni, atleta precocemente scomparso proprio un anno fa in un tragico incidente stradale. Il premio Sportman TV andrà in onda questa sera, sabato, alle 21.15 ed in replica domenica mattina alle 11 su Teletireno Elba.